buonasera benvenuti a tutti benvenuti a questo webinar di formazione zanichelli su il t greco tutto tondo. Prima di introdurvi al webinar e ai contenuti mi preme presentarvi il professor Luigi Civaleri. Buonasera professore. Buonasera a tutti ma noi ci diamo del tu Dani vero? Sì io se permettete non facciamo finta di non conoscerci. Vabbè ringrazio molto quindi Luigi è un professore bravissimo adesso ve lo introduco che conoscete dall'anno scorso ha festeggiato con noi il T-Day l'anno scorso è laureato in matematica e dopo un periodo dedicato alla ricerca ha spostato il suo interesse nel campo della comunicazione scientifica di cui si occupa da più di vent'anni ha lavorato in importanti chiese editrici da libro professionista no anzi per poi dedicarsi da libro professionista alla traduzione alla consulenza editoriale ha scritto tantissimi libri Luigi quello che ti sta più a cuore che vuoi segnalare è quello forse più famoso anche se insomma tragicamente perché spillover quello sulle epidemie il libro di David Komen sulle sulle zoonosi sulle epidemie che temo molti abbiano letto è un bellissimo libro mi sarebbe piaciuto che non l'avessimo letto per motivi contingenti ecco perciò tanti libri l'universo elegante il dilemma dell'onnivoro spillover di cui parla armi acciaio malattie il cucchiaino scomparso e poi se però anche negli anni è dedicato a organizzazioni di prestigiosi eventi scientifici ha coordinato la grande mostra numeri al palazzo di esposizioni di roma e nel 2002 dal 2002 si dedica anche alla formazione dei docenti fa parte del corpo docente il master in comunicazione e la scienza della sissas di trieste dico bene tutto giusto allora io vi ringrazio tanti siete tantissimi in chat che ci salutate e che siete molto affettuosi e caldi quindi pronti per festeggiare il pibei io condivido subito le diapositive ma dopo avervi detto il titolo subito partiamo con un colpo di scena il titolo di queste diapositive è arte letteratura educazione civica la matematica a trecentosessanta gradi pi greco come numero a tutto tondo ma se luigi permette prima di partire dicendovi come vediamo noi il pi greco vi lanciamo scusate vi lanciamo una un gioco che è quello di formare con noi una nuvola di parole ecco qua io vi condivido prima di tutto vi condivido in chat la scusate scusatemi solo un attimo in chat vi condivido un link per una nuvola di parole collaborativa che è questa in cui se vuoi anche commentare tu luigi chiediamo dai visto che oggi parliamo della del pi greco e del cerchio in generale non più in termini strettamente matematici come abbiamo fatto l'anno scorso ma cerchiamo di allargare il discorso di una prospettiva molto transdisciplinare mi piacerebbe mi piacerebbe ci piacerebbe capire in che universi noi ci spostiamo quando pensiamo al pi greco quando pensiamo al cerchio cerchio e circonferenza ovviamente sono i numeri che nel cloud andranno a tre quattordici architettura bravi perché allora noi ve lo lasciamo sono molto grecia ecco grecia noi adesso ve lo lasciamo aperto lasciamo l'aperto perché è arrivato adesso rimandiamo il link alla nuvola di parole cosa vive cosa vi fa venire in mente il pi greco e noi iniziamo invece partendo dalle diapositive che il professor Luigi Ciballera ha preparato per voi quindi eccoci qua tra qualche minuto commentiamo la nuvola benissimo io ovviamente devo chi c'era già l'anno scorso lo sa ma ricordo a chi si fosse collegato per la prima volta chi non sa esattamente di come stiamo parlando di cosa stiamo parlando che cos'è il p day è anche la giornata internazale della matematica ed è il quattordici di marzo per due motivi allora uno è un motivo un po' locale un po' che diventa internazionale cioè quattordici barra tre nel modo di scrivere la data degli americani e scusatemi tre barra quattordici è una cosa talmente stupida scrivere la data così che non riesco proprio a farmi non ne parliamo più avanti tre tre quattordici nel modo di scrivere degli americani è il quattordici marzo e tre quattordici ovviamente come ben saprete sono le prime cifre dello sviluppo decimale di pi greco ma è anche il compleanno di Einstein oggi in nel 1988 all'exploratorium di san francisco un posto meraviglioso il primo vero museo interattivo della scienza il primo vero centro interattivo della scienza che quando si potrà tornare a viaggiare vi invito tutti a visitare inizia informalmente a festeggiare il p day che in inglese si chiama pi day pi è sia il pi greco che la torta festeggiando appunto facendo delle torte la cosa diventa sempre più importante nel 2009 il congresso degli stati uniti la loro approva come giornata della matematica e nel 2019 la cosa diventa internazionale perché l'unisco ufficialmente designa il 14 marzo oggi come giornata internazionale della matematica legata appunto al pi greco dei il tema di quest'anno è cade a fagiolo proprio come il caccio sui macroni per quello che diremo più avanti perché è la matematica unisce e noi oggi uniremo varie discipline e vari ambiti del sapere tutti legati in qualche modo a pi greco e al cerchio danni ti chiederò come tu pensai ecco di andare avanti perché sei tu la boss della presentazione nel mondo civilizzato cioè in quello in blu in azzurro si usa ovviamente il formato giorno mese anno non il formato mese giorno anno come se sono america l'america che però in molti casi ha questo predominio culturale e quindi alcuni matematici tra cui io in polemica festeggia il paidei il 22 luglio perché il 22 luglio perché 22 settimi è una eccellente approssimazione di pi greco una storica approssimazione di pi greco tra il maggiorante di una disequazione scoperta da archimede cioè archimede scopre che un pi greco cioè scopre calcola più greco fino a un notevole numero di cifre decimali con il suo famoso metodo di approssimazione con polinomi e scritti circoscritti e 22 settimi 3 14 28 eccetera eccetera che è un'ottima è un'ottima approssimazione di pi greco quindi è anche più preciso dice qualcuno in chat sì è vero rispetto a 3 14 perché lo usavano tranquillamente nell'antichità grazie allora luigi io vado a far vedere se sei d'accordo la nuvola di parole e perché appunto come dicevi tu la nostra sfida di oggi è guarda che storia la nostra sfida di oggi è proprio collegare materie disciplina a far capire che la matematica e il p day sono chiavi di lettura culturali che aprono orizzonti per tutte le discipline ecco qua allora conferenza cerchio era infinito e bellissimo mi piace ne parleremo più avanti certo qui greco è legato in qualche modo in molti modi all'infinito il razionale numerazione perfezione trascendente qui ci sono ovviamente collegati molti matematici quindi sanno che cos'è vuol dire trascendente perché più greco è trascendente ci sono alcuni romantici Luigi la bellezza di ciò che non si ripete è troppo picco io lo schermo ah grazie che me lo bellezza di ciò che non si ripete oppure una strada che si percorre senza poter arrivare mai alla fine ma lungo la quale non ci si può perdere bellissimo mi anticipa delle cose che diremo più avanti non smetteremo mai di ricercare ma arriveremo a capire tutto insomma tra di noi ci sono grazie dei romantici come tutti i matematici in fondo ok allora lo lasciamo lì che ha piacere di continuare e andiamo a sentire subito invece le parole preziose e anche romantiche del professor c'è oggi come come potete immaginare rispetto alla lezione dell'anno scorso oggi siamo molto più oggi divaghiamo diamo spunti l'idea di parlare delle suggestioni di più greco in varie discipline in 45 minuti è folle per cui non farò che dare poche suggestioni con la speranza che si trasformino poi in stimoli perché ognuno di noi nella sua nella sua pratica quotidiana della didattica della divulgazione della matematica abbia come dire qualche idea in più per far digerire certe 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 nozioni per far capire anche la bellezza di alcune di alcune idee o pi greco è un un rapporto di cui ci si è accorti molto presto l'umanità ha capito molto presto che i cerchi erano tutti uguali nel senso che c'era sempre questo misterioso costante rapporto fra il diametro e il cerchio qui possiamo avere due interpretazioni c'è l'interpretazione mistico simbolica che dice che il cerchio è di per sé un oggetto mistico simbolico l'interpretazione come dire più più pedestre ingegneristica è il cerchio la figura più semplice da tracciare ci sono esempi di compassi preistorici molto semplici basta tracciare una tracciare un cerchio non ha in un campo è facilissimo si mette un bel bastoncino in un punto una cordicella con la si gira attorno al bastoncino ovviamente diventa si traccia un cerchio molto facilmente quindi c'è un po' questa dicotomia fra cerchio come figure a cerchio circonferenza come figure semplici da tracciare immediate figure di cui ci sono molti esempi in natura siamo circondati da oggetti di natura circolare o sferica no e cerchi invece come che fin dalla preistoria vediamo esempi di incisioni rupestri che hanno partono da un modulo cioè da un modulo circolare e quindi ci chiediamo se questo modulo circolare non sia soltanto non sia invece di qualcosa di più profondo di una specie di primo simbolo di infinità perché infatti il cerchio è legato all'infinità il cerchio è perfetto perché non ha inizio non ha fine qualsiasi altra figura geometrica sono in piana voi iniziate percorrere il da un punto qualsiasi del perimetro vi accorgete che il punto da cui partite cambia la vostra esperienza se vuoi cosa delle formichine che si muovono lungo lungo il perimetro il cerchio ogni punto del cerchio uguale omogeneo un cerchio non ha parti ed è per questo che abbastanza immediato assumerlo come esempio come simbolo di perfezione di infinito e anche di divinità arrivare a parlare di divinità quando di fronte a una simbologia circolare è stato un passo che hanno fatto molte civiltà come vediamo più avanti conversamente c'è anche una e lo vediamo tra poco il cerchio è anche qualcosa di inattaccabile di chiuso di perfetto di compiuto e non è un caso che le prime fortificazioni sono tutte circolari le prime diciamo prima di avere delle case prima di avere delle abitazioni a base quadrata o a base a pianta quadrata pianta rettergolare le primissime abitazioni sono capanne di cui abbiamo ovviamente noi aperti archeologici sono capanne forma circolare i villaggi che nascono sono villaggi organizzati su un modulo circolare perché il cerchio chiude protegge e fortezza anche non soltanto perfezione e omogeneità e infinità appunto non possiamo non avendo un inizio una fine una circonferenza è anche infinita se vogliamo ecco la componente mistica del cerchio è evidente in culture anche molto diverse qui ho preso due esempi uno è la mistica cristiana una frase molto celebre quella che è riportata qua dio per la una delle definizioni di dio di un cerchio il cui centro è ovunque la circonferenza in nessun luogo è un cerchio anche qualche cerchio figura la figura è perfetta centrato da centrato ovunque non esiste un centro non esiste circonferenza perché di infinito attuale non è infinito potenziale chi ha scritto questa frase per primo non lo sappiamo l'hanno attribuito a tantissimi filosofi medievali tradizionalmente si attribuisce la rete tresmegisto la sua fortuna in occidente si deve probabilmente a Nicola Cusano che ne ha parlato nei suoi scritti io però voglio parlare del anche di una tradizione culturale in cui il cerchio assume un altro significato che è quella del buddismo zen e del taoismo il cerchio che vedete qui che voi avete visto immagino molte volte queste l'altro è la bandiera della corea del sud che ha in centro quello che si chiama taji tu in cinese cioè il cerchio degli opposti voi sapete che nella filosofia in molte filosofie orientali la compresenza di due principi opposti molto importante nel taoismo cioè i due principi sono yin e yang in questo caso vedete che c'è anche un'interessante costruzione geometrica perché non sono due semi circonferenze dove si sono semi cerchi ma sono due semi cerchi in cui diciamo tagliando il diametro in due a sua volta noi facciamo insistere una semi circonferenza su questo metà diametro ed è un processo che si può ripetere all'infinito secondo il buddismo zen altra tradizione importantissima orientale il cerchio è un principio fondamentale perché illuminazione forza e universo l'universo a natura circolare d'altronde come voi sapete il tempo è circolare nel buddismo la reincarnazione è prova del fatto che la nostra esistenza è circolare nel buddismo maiana non il mondo l'universo non ha un inizio non ha una fine e quindi il cerchio è il simbolo perfetto della divinità non della divinità del dell'universo e quindi dell'illuminazione nel buddismo zen l'illuminazione è molto spessa legata alla figura del cerchio ci sono anche tradizioni come quella ebraica in cui appunto per chiedere a te tu sei esperta di questo sì però in in situazioni di lutto si scusa torno indietro in situazioni di lutto si mangiano le uova sode proprio perché per dare questa speranza della vita che sembra si perpetua all'infinito quindi il la morte è un passaggio per una vita che invece continua simbolo dell'uovo la cosa fino a cima sicuramente la tradizione ebraica non prevede la reincarnazione individuale però c'è un tempo circolare perché era la continuazione della vita al cerchio della sì 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 no si prevede la risurrezione dei morti però adesso non ne parliamo ma per dire che l'uovo è la cosa vedete come dada veramente ci porta ci porta ci porta in subito interessantissimo io spero che a chiusura di questo webinar tutti noi ci inolteremo su vari terreni di approfondimento la speranza è questa noi i nostri studenti e sempre con un occhio di partecipazione perché vi vogliamo a festeggiare con noi tutti quanti una domanda la lancio io secondo voi quando l'umanità per lo meno quella colta si è convinta che la terra fosse rotonda adesso vi apparirà la possibilità di rispondere a nell'antichità b attorno al 1300 c dopo viaggi di esplorazione nel quindicesimo secolo preciso cosa vuol dire l'umanità colta delle persone che si vogliono leggere e scrivere il contadino che ahimè per millenni non non alza la sguardo dal suo campo e guarda soltanto il sole e le stelle diciamo e non esce dalla sua dal suo campicello overino da ben altri problemi se non chiedersi se la terra fosse piatta o tonda stiamo parlando delle persone che si vogliono leggere e scrivere che come sappiamo sono una esigua minoranza fino all'altro ieri ecco allora avete ancora qualche secondo per votare secondo voi quando ci sei convinti che la terra se si è avuto la percezione che la terra fosse rotonda allora vediamo le risposte ci stanno per arrivare ecco qua allora tu le vedi luigi si le vedo le vedo è molto interessante perché è che le commentiamo per chi non le vedrà da youtube il 39 per cento ha risposto nell'antichità il 20 per cento ha risposto attorno al 1300 e il 41 dopo i viaggi di esplorazione nel quindicesimo secolo quindi vi siete divisi quasi a metà tra 1 e 3 la risposta 1 risposta 3 e una minoranza 2 dicevi luigi scusa se andiamo alla prossima slide capiamo vediamo la risposta la 1 già i babilonesi pensavano al mondo come una sfera immersa nel vuoto il fatto che noi pensiamo che sia stato il viaggio di esplorazione convincerci che la terra circolare è una una bella opera di propaganda della come dire della della anche della chiesa cattolica ma non solo i greci erano strano i filosofi greci erano strano convinti che la testa che la terra fosse circolare i filosofi medievali erano strano convinti che la testa che la terra fosse circolare noi ci raccontano diciamo è una bella storia quella che ci raccontano dicendo è cristoforo colombo vasco da gamma e chi per lui provano dimostrano che si può ci si può andare attorno alla terra quindi la terra è tomba no la verità è che lo si vede in tutti gli scritti dei grandi matematici dei grandi filosofi greci della classicità e del periodo il periodo elenistico erano tutti assolutamente convinti che la terra fosse circolare ma sai che in chat molti commentano combattute dicendo che purtroppo anche a oggi ci sono molti convinti che la terra sia ma questo lorenzo ci stanno scrivendo non sapete quanti terapiattisti ci sono oggi io ho una mia amica andata a un convegno di terapiattisti è tornata abbastanza scioccata perché pensava che scherzassero e non scherzano affatto vedo che in chat compare il nome di eratostene e ne parleremo tra pochissimo è proprio lui in effetti guardate che tutte le cosmologie premoderne su una base circolare o sferica dalla mesopotamia in poi in occidente perché i maia invece ai maia piaceva molti più quadrati loro interpretavano i quattro angoli del mondo in modo letterale mentre i noi lo interpretiamo in occidente in modo metaforico e quattro angoli del mondo sono i quattro punti cardinali la cosmologia ma era era effettivamente il mondo era per loro effettivamente un quadrato mentre in occidente appunto dai biblionesi in poi dei greci in poi il cerchio la fa la presa una il modello dominante dell'universo quello che ci accompagna fino al 1600 in il tratto è quello tolemaico è interamente basato su rapporti tra cerchi rapporti complicati se tu vai un attimo un attimo avanti con la diapositiva il favore ecco qualcosa che non tutti sanno è che il sistema tolemaico era molto complicato non era soltanto la terra al centro e tutti i pene di torno lungo dei cerchi no gli astronomi greci ma anche i babilonesi si erano accorti che i moti dei pianeti i moti delle stelle erano tutt'altro che sempre ci sono i famosi moti retrogradi alcuni pianeti vanno a un certo punto inverto nella direzione del moto apparente nel cielo eccetera eccetera e tolomeo che è quello che diciamo rende coerente un insieme di nozioni che circolavano in ambito allenistico da molto tempo penso a eudosso di cnido a polonio di perga tutti i grandissimi matematici di cui e me abbiamo perso gran parte delle opere comunque tolomeo sistematizza nel suo magesto un sistema complicatissimo di cerchi chiamati epicicli differenti che rendono conti in modo molto preciso dei modi dei modi dei modi apparenti dei pianeti nel cielo delle stagioni di mille altre cose ed è tutto esclusivamente basato sul cerchio se torni un attimo indietro poi torniamo ad eratoste grazie a danni io vorrei sottolineare una cosa che la uno degli scandali di che della rivoluzione coper di che plero più che di copernico è stato non soltanto quello di aver posto il la terra di aver spostato la terra dal centro dell'universo ma di aver sostituito ai cerchi figura perfetta degli ellissi voi sapete che una delle tre leggi di che plero sostiene che le orbite che i pianeti descrivono attorno al sole non sono cerchi ma sono ellissi e la loro incedere nel cosmo non è omogeneo ma la velocità cambia secondo la quantitativamente legata alla terza legge di plero anche galileo da un colpa questa concezione antica dell'universo dimostrando a questo telescopio che i corpi non sono incorrottibili perfetti che ci sono i crateri lunari quindi la superficie dei pianeti non sono perfettamente sferiche eccetera eccetera tornando invece alla diapositiva successiva qualcuno ha fatto il nome di eratostene è la figura di destra immagino sia nota più o meno quasi tutti eratostene vissuto tra 280 al 190 avanti cristo circa non si sta molto della sua vita dimostra in modo elementare che calcola in modo elementare la lunghezza del della circonferenza terrestre e ovviamente dava per scontato che la terra fosse la terra fosse una sfera ci sono moltissime cose interessanti da dire su questo io mi limito a due una la misura della terra l'opera in cui lui ne parla è andata perduta per cui tutto quello che noi sappiamo è ricostruito questo è un destino tragico di gran parte della matematica della scienza ellenistica io consiglio a questo proprio a tutti di leggere un libro fondamentale che è la rivoluzione dimenticata di lucio russo e disponibile intascabile da feltrinelli in cui si parla della tragedia che noi abbiamo avuto con la perdita della biblioteca di alessandria di gran parte della della matematica della scienza ellenistica alcune delle cose che loro hanno scoperto non sono state riscoperte in occidente prima del 1600 quindi 1800 1900 anni dopo la seconda molto interessante è che lui calcola secondo le fonti secondarie calcola la distanza fra alessandria e siene l'attuale assuan in 252 mila stadi esatti e molti si chiedono mi puzza questa cosa come fa essere una distanza così esatta alcuni storici l'interprete in modo molto interessante lui secondo alcuni storici lui ridefinisce lo stadio sulla base di questo arco di meridiano terrestre non mi viene in mente qualcosa è esattamente quello che è stato fatto nel 1798 non mi ricordo la nota esatta con il la conferenza dei paesi delle misure quando si è deciso che il metro sarebbe stata la 40 milionesima parte del meridiano terrestre quindi secondo alcuni storici lui definisce il nuovo stadio nuovo stadio ellenistico sulla base della circonferenza terrestre la rivoluzione per cui in chat mi dice la rivoluzione dimenticata luce russo filtrinelli allora hai letto la chat tu ti stavo per avvisare perfetto scusami danni dimmi va bene questa diapositiva perfetto grazie sì perché si collega si collega a quello che abbiamo appena detto dante che è vissuto ben prima che sa fare colombo aveva perfettamente la nozione del mondo del mondo il suo mondo mondo il suo modello di inferno di paradiso di colgatorio sono il suo modello di universo è un modello ovviamente tolemaico è un modello che presuppone il modulo circolare presuppone il fatto che la terra è una sfera sia una sfera il la citazione di dante mi dà il la per parlare per passare a livello di come dire apertura ad altre discipline mi torno ancora indietro un attimo danno perché voglio leggere questi questi versi che sono bellissimi perché c'entrano anche con pi greco appunto diciamo che passiamo dalla storia dalla storia classica dalla cosmologia alla letteratura e cominciamo a vedere che il cerchio e pi greco compare in tanti tante occasioni mi piace leggere queste celebre terzine dantesche perché hanno a che fare proprio con pi greco qual è il geometra che tutto s'affigge per misurare lo cerchio e non ritrova pensando quel principio dell'indige tal era io quella vista nuova veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indova in pratica lui dice così come geometri non riescono a quadrare il cerchio detto in soldoni io non riesco a quadrare nella mia mente limitata la mia visione del dio infinito e questo è molto questo è è una delle tante cose meravigliose che dante ci regala nella sua opera e non è stato solo ovviamente a parlare di cerchio a parlare di pi greco e qui possiamo andare avanti e allora qui citazioni infinite io ne ho scelte due perché parlano esattamente di pi greco ma se vogliamo ce n'è una molto bella nel pendolo di fucco di umberto eco per rimanere ai ai contemporanei il compito di ricerca in rete andatevi a cercare la citazione di umberto eco sì non gliela diamo quella che lega perché ovviamente come sapete pi greco legato al periodo del pendolo pendolo di fucco eccetera borges nell'alef mi sembra ne parla ne ho scelte due molto diverse dunque le cosmi come che sono forse sapete dei capolavori di italo calvino sono racconti fantascientifici in cui una protagonista immortale il vecchio cubico z commenta alcuni eventi del passato e qui sta parlando di del big bang ed è una italo calvino forse lo sapete ha frequentato l'ulipo a parigi che era un laboratorio di letteratura molto legato alle scienze molto legato alla matematica in particolare c'era anche roland bar che era a sua volta legato al gruppo burbacchi il gruppo di matematici che voleva rifondare la matematica sulla base di principi primi inattaccabili e qui è il fatto che dice che al tempo del big bang esistessero solo due numeri e pi greco è una stoccatina ad alcune correnti della filosofia matematica costruttiviste o diciamo aristoteliche lui sostiene questa posizione platonica per cui all'inizio del mondo già esistevano i numeri alcuni numeri i due numeri più importanti cioè e e pi greco e poi una una poesia che forse molti conoscono perché è una poesia che si chiama letteralmente sul pi greco ed è una grande poetessa polacca vislava simborska che ci ha lasciato da qualche anno da poco premio nove per la letteratura è una poesia molto più lunga di così io ne ho segnato qua soltanto l'inizio è molto molto bella si trova online nella traduzione di alessandro chicotte che è la sua tradutrice ufficiale degno di meraviglia il numero pi greco 3,141 e sui cifre seguenti sono ancora tutte iniziali 5 9 2 perché non ha mai fine non si fa abbracciare 6 5 3 5 con lo sguardo 8 9 con il calcolo 7 9 con l'immaginazione e neppure 3 2 3 8 per scherzo per paragone 4 6 in qualsiasi cosa 2 6 4 3 al mondo e va avanti così è molto molto suggestivo bellissima tra poi non conosciamo il polacco ma la traduzione è della sua tradutrice ufficiale ed è eccellente e se andiamo avanti ecco qui Dani entri anche tu no perché è una questa è una tua idea che io molto molto sposata è un'idea in cui è dato che noi stiamo giocando con voi volevamo sapere dato che c'è un modo per memorizzare il ti greco molto diffuso che è quello di scrivere dei versi di lunghezza pari alle cifre del ti greco in modo da memorizzarle e da fare questi componimenti noi vorremmo proporvi di fare altrettanto esco dalla presentazione scusate aspettate che interrompo un attimo così esco dalla presentazione e lanciamo questa sfida siete pronti a provare se avete voglia a produrre un un vostro componimento breve adesso poi vediamo qua l'esempio sul sul ti greco con le cifre del ti greco se sì noi adesso vi lanciamo avete tempo un quarto d'ora il sito su cui andare aspettate che condivido il link è questo ve lo condivido in chat e così potete se avete piacere mentre ci ascoltate sapete che ormai siamo magari se ne conoscete una un po buffa un po strana ce ne sono tantissime se ne conosce qualcuno ci fate anche molto piacere allora voi fate più e poi inserite la vostra io approfitto per salutare valentina gabusi la responsabile di questi incontri di formazione zanichelli elisa canigiana anche lei diciamo attiva in questi corsi di formazione che sono dietro le quinte e ci stanno seguendo con questa ottima diciamo regia valentina ha proposto il suo componimento fra l'erba e zittara chiusa in navate verdi quindi volete come lei e provare a mettervi in gioco noi vi aspettiamo su questo su questo diciamo questo questa bacheca provate anche mentre guardate già elisa ci sta provando ma trasporta su tutti i sogni tra piante bellissimi c'è veramente io direi che anche in altre lingue se volete se siete poliglotti perfetto allora vi aspettiamo entro la fine del webinar chi avrà pubblicato la componimento più bello avrà una una notazione speciale in realtà in realtà so già che saranno tutti belli per cui sarebbero primi e pari merito assolutamente mentre andiamo avanti quindi voi continuate a provarci e qualcuno dice non sono capace giocate se avete capace noi stiamo festeggiando un giorno di matematica di cultura giocate assolutamente è una festa non è non è allora dalla la letteratura all'arte e qui io devo veramente arrendermi perché ovviamente ci sono corsi interi corsi universitari interi dedicati a questa a questa a questa materia quindi vi do soltanto del video soltanto delle suggestioni ovviamente la forma circolare è onnipresente nella figurazione nelle figurazioni artistiche dall'ombo qui abbiamo messo l'uomo vitruviano abbiamo messo kandinsky gli ha messo è una cosa a destra su cui voglio soffermarvi un pochino cioè la cultura figurativa occidentale ovviamente legata alla alla cultura tu cura occidentale che vede che vede nel cerchio una 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 forma perfetta una forma ideale una forma anche simbolica una forma di congiunzione col divino usa il cerchio ovviamente con della circonferenza con grande con grande profusione di dettaglio mi piace ricordare qua una la composizione iper astratta di casimir malevich che è cerchio nero su fondo nero che sembra una presa per il culo ma è una scusate una presa una una presa in giro mi è scappata per il cerchio una presa per il cerchio una presa per il cerchio ma è in realtà una una profonda riflessione sul ruolo della della strazione della geometria nell'arte malevich tra l'altro ai pilola di attualità era nato a kiev città in me sotto lo sguardo di tutti in questi giorni di cosa vorrei parlarvi un po più rapidamente di qualcosa di non occidentale cioè delle di quello che vedete alla vostra destra è un so è un so in giapponese vuol dire cerchio ed è una realizzazione calligrafica dei calligrafi giapponesi la calligrafia per il giapponese è un'arte come voi sapete che cos'è è un un esercizio anche di meditazione si fissa lungo un foglio bianco quando ci si sente pronti si impugna un pennello se lo si impinge nell'inchiostro e si disegna senza interrompere un movimento un cerchio chiuso o aperto e poi eventualmente lo si firma lo si sigilla come in questo caso è un esercizio che a noi sembra distante da da quello che noi consideriamo appunto arte figurativa ma così come male dice può fare un cerchio nero su fondo nero dire queste arte così per la cultura zenta cultura giapponese la composizione con un solo gesto di un cerchio è qualcosa di profondamente importante perché il cerchio nella cultura zen è sia al vuoto sia al no voi sapete che del buddismo zen come abbiamo visto prima una cultura di oppositi è la luna e il sole è lo zero ma è anche il tutto è l'aperto ed è anche il chiuso e così via e questa performance arte se vogliamo perché il risultato non è la l'art l'espressione artistica non è soltanto il risultato il cerchio ma è il gesto che compie il che realizza il cerchio qualcosa che ho voluto farvi notare perché forse meno nota rispetto al buono vi troviamo di leonardo o a kandinsky si chiama appunto questo tipo di commozione si chiama enso che si chiama semplicemente che vuol dire semplicemente cerchio in giapponese dalle due dimensioni alle tre dimensioni anche qua discorso infinito danni se possiamo passare sì sì stavo spiegando stavo cercando di rispondere a chat a cinzia che chiede non ho capito cosa volete semplicemente non non è un'imposizione se avete anche vuole stiamo stiamo semplicemente valutando se vi fa piacere intanto così condivido e poi passo a rifarvi vedere le presentazioni siamo stiamo vedete quanti hanno tentato di scrivere in portoghese tantissimi siete bravissimi e lo lasciamo questo lo continuerete a vedere qualcuno dice non è non è il mio stacco la sapevo già va bene fa niente pazienza basta che non ve ne appropriate lo dite ma va benissimo ecco sono tutti versi della lunghezza ogni verso la lunghe ogni parola della cifra di bello 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 perciò sai piacere grazie per la domanda per chi è arrivato dopo e ovviamente non è obbligatorio ma poi alla fine avremo questo digipad di legge è la festa della matematica quindi giochiamo non facciamo stiamo giocando con voi un pochino allora scusa luigi no hai fatto benissimo certo allora arrivati qua dalle due alle tre dimensioni ovviamente anche qua argomento infinito passare dal dal cerchio alla semisfera alla cupola è qualcosa di apparentemente semplice ma in realtà no perché se noi pensiamo a cose come le iurte dei mongoli o agli igloo degli eschimesi non sono sono qualcosa di diverso dalla cupo del pantheon comunque fin dalla preistoria il modulo circolare nell'architettura è un modulo prevalente ed è legato al sacro tempi solari come stoning le tombe pianta circolare come si vede una micene in posti diversissimi più o meno io qui ho messo micene che tutti i posti conoscono in grecia ma new grange che pochi conoscono che in irlanda è una luogo di sepoltura celtico affascinantissimo dove predomina il modulo circolare ed è stato risale a più di 3 mila anni fa quindi è veramente impressionante i tolos che sono delle tombe diffuse in tutto il terreno ce ne sono di bellissime ad esempio in sardegna i greci come forse voi sapete non amavano l'elemento circolare in architettura alcuni dicono non lo sperano fare altri dicono no era una cosa che loro disturbava dal punto di vista estetico perché preferivano il modulo rettangolare questione ovviamente aperta il ci sono ovviamente nella in grecia trovato degli archi ma non sono archi a tutto sesto sono sono archi a sesto acuto ad esempio quelle che si trovano a micene l'arco a tutto sesto l'accusazione è un semicerchio perfetto è un'invenzione italica etrusca o romana ma ci si contende la la prigione la progenitura sono loro che capiscono che basta basta con calcoli precisi si riesce a far stare in piedi un arco una cupola da solo soltanto con le spinte utilizzando le centine cioè un supporto di legno che poi viene rimosso la cupola semicercolare del pantheon se vi interessa è stata la più grande cupola in muratura per 1500 anni per dirvi come erano avanti ha delle ha degli accorgimenti strutturali incredibili la spessore della colata di della della gettata di calcestruzzo varia in funzione delle spinte calcolate in modo molto preciso eccetera eccetera ovviamente quando passiamo dal mondo classico al mondo cristiano vediamo cupole presenti nelle chiese perché non soltanto perché c'è una continuità strutturale e culturale con il mondo classico ma perché la semisfera è simbolo della sfera celeste è simbolo la rappresentazione della volta celeste mi viene in mente santa sofia che poi diventa anche una moschera e anche lì il discorso ci porterebbe molto molto avanti ma in me andiamo soltanto dieci minuti quindi devo un po volare se volete una e un suggerimento bibliografico c'è un libro molto bello pubblicato da bollati borin che si chiama mistica e architettura e parla appunto di sfere semisferte l'autore è un francese che si lui occorre comunque mistica e architettura lo cercate lo trovate lo trovate molto facilmente ecco vi hanno mandato il link dalla regia bravissimi lisa valentina grazie luigi diceva l'etizia qua in lo sapevo che già io sapevo che già i babilonesi conoscevano l'arco non erano archi non erano anche tutto sesto erano anche sesto culto l'arco lo si trova anche molto prima lo si trova in appunto in tombi a tolos di 3.000 4.000 anni fa l'arco perfettamente circolare quello in cui il concio il concio centrale distribuisce le spinte in modo perfettamente omogeneo lo si vede per la prima volta in in territorio italico perfetto ma eccoci qua qui un po più di sì un po più di matematica non è solo matematica è l'immaginazione del mondo un po di immaginazione del mondo ma la geometria allora collegamento architettura di rappresentazione visione del mondo noi studiamo la geometria piana a scuola novi sapete che ci sono i postulati di euclide il quinto dice sostanzialmente che dato non dice così l'originale ma noi l'idea mente ha fatto così se abbiamo una retta un punto fuori dalla retta passa una una sola parallela per questa retta per questo punto scusate cosa succede cosa succede se noi abbandoniamo l'idea di rimanere sul piano è una curiosità che ci si è riposti fin dai tempi dei greci gli studi più sistematici arrivano nell'ottocento con l'obacevski boliai poi rimane bel trami insomma sostanzialmente e riman soprattutto sistematizza la cosa si scopre che ci noi possiamo fare una geometria non si è ragione ha ragione salvatore kundari non proprio calcio estruzzo si è un è una cosa impropria è un materiale diverso pozzola insomma non è calcio struttura di essermi è comparso in chat davanti ha perfettamente ragione torniamo a noi si può fare una della geometria molto interessante su non sono un piatto ma su una sfera e cosa succede succede ad esempio che non non esistono più rette parallele anzi nella geometria rimaniana il postulato delle parallele e si trasforma in tutte le rette hanno almeno un punto in comune quindi non esistono rette parallele se andiamo avanti vediamo anche una cosa molto importante la differenza tra locale e globale perché noi localmente troviamo che se misuriamo dei triangoli anche molto grandi la somma di loro angoli interni 180 quindi diciamo noi stiamo sul piatto perché appunto è una delle varie proprietà chi ha studiato geometria differenziale se non ricorderà una delle varie proprietà di una superficie come una sfera è quella di essere localmente piatta e quindi noi per accorgersi del fatto che la terra è una sfera e non un foglio piatto dobbiamo misurare triangoli molto molto grandi come ad esempio quello formato da un parallelo due meridiani mi sembra che ci sia un sondaggio vero Dania? Sì allora il sondaggio è questo diciamo che sarà gioco facile per i matematici in ascolto però è stimolante in effetti a un pubblico di matematici forse questo bene fa però magari ci ascolteranno degli studenti o delle persone che hanno un piacere anche da altre discipline di seguirci perché parliamo di tante cose qual è il percorso più breve secondo voi per arrivare allora da dalla California mi sembra al Regno Unico? mi sembra sia da dunque non mi ricordo è da Londra a New York o giù di lì no da Londra alla California da Londra a San Francisco perciò qual è il percorso più breve quello rosso quello blu cosa preferite un arco o una linea retta tradizionale allora vediamo se avete risposto aspettiamo ancora qualche secondo per darvi modo di partecipare al sondaggio ed ecco le risposte tu cosa dici? cosa risponderanno? allora con un colpo di scena 60% è un colpo di scena perché il 60% risponde rosso ma bene il 40% che significa che abbiamo un po' di diciamo persone che si interessano alla matematica oggi con noi magari non del tutto esperte rispondono blu che è la risposta sbagliata la strada più breve è come adesso vi dirà benissimo il professor Civaleri andiamo avanti con la prossima di positiva allora chi ha studiato matematica sa che stiamo parlando di una cosa molto molto simpatica si chiama geodetica perché cosa succede nella geometria sferica quando non siamo più sul piano ma siamo su una sfera la distanza più breve fra due punti rimane un segmento diretta ma le rette non sono più quelle che ci immaginiamo noi sono degli archi di circonferenza massima che si chiamano appunto tradizionalmente geodetiche ed è una una piccola parte di una entusiasmante branca della matematica si chiama geometria differenziale in cui poi entrano le mie diciamo che per chi ci ascolta se ci fossero studenti in ascolto e hanno piacere di capire come mai basta che prendano un nastro se tu un nastro lo fai aderire bene ad un ad un tavolo su un tavolo aderirà nella forma di linea retta quello è il percorso più breve quello del nastro perfettamente adagiato provate invece adesso mettere un nastro intorno a un mappamondo riuscirà ad adagiarsi bene solo se il percorso sarà lungo una circonferenza massima che è proprio come nel caso del piano quella è la geodetica e del percorso più breve perciò il percorso più breve sulla sfera non è quella linea in cui un nastro non aderirebbe bene ma è quella rossa della perfetta adesione che è la strada più corta ho detto bene non so se vuoi hai detto perfettamente io ricordo il mio primo volo trans oceanico sull'Atlantico in cui a un certo punto il comandante disse se guardate alla vostra destra potete vedere la punta della Groenlandia e io ero un ragazzino non aveva ancora non aveva ancora studiato queste cose e disse la Groenlandia ma siamo fuori rotta invece eravamo perfettamente invece perfettamente quindi la figura che vedete a destra è un rapido accenno al fatto che la questione di geodetica di curvatura eccetera sono importanti anche a livello cosmologico noi tendiamo a dare per scontato che l'universo sia una sfera e quindi la geometria dell'universo è sferica in realtà non lo sappiamo ci sono tutto dipende da un parametro di densità c'è quel parametro omega zero che vedete lì e le misure che abbiamo fatto finora non sono definitive non ci dicono definiti noi come dire supponiamo che l'universo sia una iper sfera non una sfera perché ci torna bene con le metriche einsteiniane eccetera ma non è affatto detto come forse qualcuno di voi sa per cui magari siamo su una pseudosfera qui con curvatura negativa quindi la geometria è iperbolica oppure siamo su uno spazio non solo localmente piatto ma forse piatto a livello anche globale non è dato saperlo proviamo a procedere per capire meglio volevi dire qualcosa no no perché mi preme fare questo collegamento tra la matematica e la società la matematica per tutti la matematica unisce quindi se andiamo andiamo possiamo andare alla prossima diapositiva la ops spoiler e questo è un mio tentativo di fare una segue come si dice in gergo cinematografico cioè una un aggancio tra un argomento e l'altro il più liscio possibile quindi flatlandia questo libro magnitico che spero molti di voi abbiano letto un libro che è nel 1882 che una satira della società vittoriana del classismo vittoriano delle caste vittoriane fatta attraverso la geometria e questo qualcuno di voi ricorderà che la le caste erano determinate la posizione sociale era determinata dalla dal numero di lati è un mondo è un mondo piatto letto e riletto brava elena così si fa è un mondo piatto in cui le figli gli abitanti sono figure geometriche i triangoli sono gli schiavi i poli i cerchi che in realtà sono poligoni di tantissimi lati sono i supremi quindi i c i circoli sono in avvicinabili intoccabili sono i più alti e il circolo mi aiuta a parlare del circolo della matematica che è un circolo chiusissimo no cioè sembra quasi che di matematica siano autorizzati a parlare in pochi sembra quasi che pochi entrino nel circolo della matematica c'è una barriera all'ingresso rilevante che dipende da mille fattori ad esempio nel circolo della matematica che conta dei grandi matematici ahimè ci sono pochissime donne ahimè giusto danni giusto e chiediamoci una cosa alle studentesse in ascolto chiediamoci una ecco qui arriva l'altro sondaggio allora sondaggio è questo eh dal millenovecentotrentasei a oggi sono state assegnate sessanta medaglie fields che sono il nobel della matematica al corrispondente del nobel secondo voi quante donne dal trentasei a oggi hanno vinto una medaglia fields nessuna una due o cinque quante donne hanno vinto già l'opzione l'opzione massima è già è già triste così però però diciamo possiamo solo migliorare questo e siamo sicuri che magari qualcuna delle nostre studentesse all'ascolto magari sarà stimolata sarà la prossima sarà la prossima perché no allora se avete votato votate nessuna una due cinque ancora qualche secondo vi mostriamo il risultato eccolo qua allora avete risposto al ventotto per cento nessuna metà quarantasei per cento detto una e poi il ventitré ha detto due e il quattro per cento ha detto cinque quindi diciamo metà ha cercato la risposta giusta che è una sola una sola nel 2014 quale di queste maria mir mir zacani che purtroppo è non c'è più è morta solo i 40 anni il cerco della matematica sembra esclusivo difficile entrarci sì e perché ci sono così poche donne matematiche esiste un cervello massimo un cervello femminile chi lo sa chi lo sa è una bella domanda a cui non si sa rispondere la risposta più sensata sulla base delle mille ricerche condotte è che l'elemento sociale preponderà cioè quando alle donne si dà l'opportunità di studiare studiano quali le donne questi sei figure che io ho scelto sono tutte caratterizzate da una caratteristica sono donne eccezionali ma sono donne fortunate perché nascono in ambienti stardinari sono ricche sono figlie di professori sono stimolate da padri moderni per l'epoca a studiare e sono ovviamente dei geni sono dei super geni perché per emergere in un mondo maschile una donna deve essere tre volte più brava forse posso lanciare un rapido sondaggio in chat sono tutti i sei nomi che avete già sentito vi invito ad andare a cercare la loro vita sono tutte molto interessanti qualcuno ti suggerisce Mireva Maric? è controversial la moglie di Einstein la prima moglie di Einstein che lui ha trattato malissimo che secondo molti è dietro a tante delle prime scoperte di Einstein soprattutto dietro alla relatività ristretta sì tra l'altro io uno dei miei primi lavori vittoriali è stato curare una raccolta di lettere fra Einstein e Mireva Maric c'è un lato di Einstein molto tenero poi col senno di poi sapendo come si è comportato malissimo insomma però all'inizio era molto innamorato le conoscevate tutte queste donne matematiche? l'Islamite era una chimica fisica? sì, due su sei sì, sì cercatele, cercatele, hanno tutte storie interessantissime Sophie Germain per quasi tutta la sua vita ha dovuto usare uno pseudonimo Antoine Auguste Leblanc perché altrimenti non la prendevano sul serio poi quando si è rivelata a Lagrange e a Gauss sono dei due più grandi matematici dell'epoca hanno tutti e due detto signora lei è triplamente geniale per poter come dire muoversi in un mondo così maschile intanto grazie per il riscontro, ci rispondo, non ne conoscevo due su sette, una sola eccetera eccetera però appunto come nei buoni incontri, nelle buone feste il professor Civaleri vi lascia un compito di andare a studiare il compito è andato a cercare, ma ce ne sono anche molte altre io ne ho scelte sei più o meno emblematiche ce ne sono anche molte, tutti hanno dato i contributi importantissimi alla storia della matematica il teorema di Noether perché si occupa di fisica è la pietra miliare della fisica matematica quello che lega le simmetrie di un sistema alle quantità conservate perciò li lasciamo questo spunto di approfondimento da soli e chiediamoci alla fine, esiste un talento matematico? ci sono, perché i cinesi sono più bravi di noi a fare la matematica? Ada Lovelace certo, la fatta matematica la chiamava Babbage quello con cui lei ha praticamente inventato l'informatica teorica Ada Lovelace, tra l'altro è legata all'Italia Ada Lovelace perché era amica del Conte Menabrea che è un ingegnere, uno dei primi ministri dell'Italia Unita e insieme hanno scritto delle cose insieme Ada Lovelace è molto molto importante torniamo a la matematica non fa per me esiste un talento innato a matematico? sì o no? chi lo sa? ci sono stati degli studi che hanno visto delle alterazioni di alcuni circuiti cerebrali in bambini con spiccato talento scusami Luigi, era un altro sondaggio questo quindi facevamo l'ultimo così stiamo proprio credendo mi dimenticavo l'ultimo sondaggio, scusa pensate che esiste un talento matematico innato sì o no? la domanda non ha senso cioè la terza opzione sì esiste un talento matematico innato no non esiste questa domanda non ha senso la terza opzione diteci sinceramente qual è il vostro punto di vista con qualche secondo di tempo per rispondere vediamo cosa dite sì, secondo il 73% di chi ci sente esiste un talento matematico innato e altri sono divisi tra noi non ha senso la domanda non sono sorpreso perché è una convinzione abbastanza comune io se devo essere sincero non ci credo troppo nel senso che c'è una predisposizione per alcuni tipi di attività logico simboliche se vogliamo ma sono abbastanza convinto che molto del respingimento che noi proviamo nei confronti della matematica è dato dall'ambiente se fin da bambino ti convinci che la matematica non fa per te ci sono degli studi abbastanza tristi che giungono a conclusione abbastanza tristi basta veramente che nei primissimi anni di formazione scolastica il bambino o la bambina percepisca che qualcuno anche se una frase distrattamente detta dalla maestra non sei portata non sei portata può avere delle conseguenze profonde io credo una cosa che questo webinar secondo me contribuisce a spezzare il fatto che la matematica sia una tecnica scollegata dal valore dalla lettura di ciò che ci circonda ecco questo webinar grazie al professor Civaleri invece ha voluto mostrare a chi ci ascolta che è una chiave di lettura delle forme che ammiriamo del mondo che possiamo immaginare della letteratura dell'arte che possiamo creare di tutti questi orizzonti che l'uomo può immaginare quindi la matematica è romantica a modo suo e chi non lo coglie non si rende conto che perde un grande valore quindi non è solo talento tecnicalità ma è tutto tutto quello che possiamo di cui possiamo arricchire le nostre esperienze che vale la pena come dire sviluppare fin da bambini certo non dobbiamo limitarci a dire il talento matematico è il talento nella risoluzione dei problemi il talento matematico è anche nella creatività nel modo di affrontare dei problemi se vogliamo è una risposta vi lascio allora prima dei saluti dell'ultima depositiva possiamo chiedere un secondo sì prima dell'ultimo saluto vi lascio un'osservazione molto buffa io ho seguito gli studi di Stanislas Dehen che è un neuroscienziato e il matematico che si occupa proprio del senso innato della numericità del talento matematico e lì ho scoperto ed è una correlazione che non ha alcun senso evoluzionistico sono quelle correlazioni spurie tra i suicidi e le vendite dei sottaceti sapete che ci sono degli statistici che si divertono a fare questi grafici che hanno lo stesso andamento ma ovviamente sono fenomeni senza alcuna correlazione c'è una correlazione fra i matematici famosi di talento e tre caratteristiche sono primogeniti mancini e miopi ah pensa io sono tutte e tre ah vedi vedi ma non sono un matematico di talento per cui la condizione non è né necessaria né sufficiente comunque ci state scrivendo cose molto interessanti in chat come per esempio l'intuizione matematica è nata invece le capacità si evolvono a ognuno ha la sua idea questo è platonismo io questo è platonismo ognuno di noi ha la sua idea io però voglio ringraziare prima di lasciare veramente il saluto finale a tutti i saccivaleri per questa bacchecca di tanti di voi che si sono cimentati qui e in chat resta a voi questa bacchecca questo ovviamente resta non è che lo buttiamo e resta per cui se avete voglia di stimolare gli studenti le studentesse se avete voglia e siete studenti studentesse di cimentarvi voi possiamo fare questo atto di coraggio di creare una nostra produzione grazie 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 una forma cabalistica come mistica va bene proviamo a chiudere quindi con un ultimo spunto sì con uno spunto che ho trovato in un ecco il ringraziamento sì sì è uno spunto non si chiude mai si chiude per aprire prendiamoci un po' in giro non soltanto cioè riconosciamo che abbiamo noi matematici dall'alto una fortuna perché ci si aprono porte che non a tutti si aprono quindi poi diamoci una pacca sulla spalla e dobbiamo secondo me abbiamo il dovere di provare a fare aprire di socchiudere queste porte anche agli altri appunto facendo capire che la matematica non è solo una tecnica ma è un mondo ma sono molti mondi prendiamoci un po' in giro questo è un bellissimo scritto in un bellissimo italiano settecentesco questo è uno serissimo studio di un medico che parla delle malattie dei letterati quindi delle malattie psichiche dei letterati e lui dice che i matematici che sono forzati a tenere l'animo separato dai sensi e quali dal commercio del corpo per contemplare e dimostrare cose astrusissime e lontane da materialità quasi tutti sono sbalorditi pigri sonnolenti e come forestieri delle cose del mondo non so se ci riconosciamo in questo ma mi è sembrato divertente chiudere in questo modo un po' scanzonato senza prenderci troppo sul serio assolutamente sì in una grande spirito di festa di cui siete stati in così tanti partecipi attivi sorridenti spiritosi la chat è infocata è veramente grazie grazie fantastici grazie perché siete stati veramente molto partecipi molto attivi in una festa della matematica a tutto tondo come linguaggio del reale grazie a professor Civaleri grazie a voi grazie a tutti grazie a te grazie a tutti buona continuazione e buon pi day o p day a seconda di come lo vogliate declinare poi rifesteggerete con il professor Civaleri il 22 luglio se verete il 22 luglio io faccio un new webinar ci invita ci invita dalla spiaggia ovviamente io ci vengo quindi poi dopo ci mettiamo d'accordo buonasera a tutti un caro saluto grazie a tutti buona serata grazie